Ciao ragazzi, bentornati su H3 Medicine. Oggi facciamo il rebutto di un video di qualche tempo fa, che tratta di uno degli argomenti più incasinati che si trova ad affrontare un medico durante la sua carriera. Non è la comunicazione medico-paziente né l'eglomerulo-nefriti, ma è tutta una sfilza di scartoffi e burocrazia che serve per iniziare a lavorare. Per questo rebutto ho chiesto aiuto ai professionisti di Piscomete, che ormai da qualche anno mi danno una mano quando ho dei dubbi in merito. Per chi non li conoscesse ancora, è un servizio che si occupa di semplificare la vita ai giovani medici, soprattutto per quanto riguarda tutta questa sfilza di procedure burocratiche. Comunque ne parliamo in modo più approfondito alla fine del video. Quindi in questo video andiamo a trattare i principali adempimenti burocratici che un giovane medico si trova ad affrontare quando comincia a lavorare. In particolare la triade monedetta composta da ordine dei medici, EMPAM e partita IVA. Ci sarebbe anche l'assicurazione RC professionale da trattare, ma quello è tutto un altro mondo e servirebbe un video a parte. Quindi se volete magari ne facciamo uno prossimamente. Prima di cominciare, come sempre, datemi una mano con l'algoritmo di YouTube, commentando, lasciando like e condividendo questo video in giro. Fatto? Bravi! Possiamo cominciare! Come sapete, durante il Medioevo ogni mestiere era riunito in una corporazione, ognuna delle quali aveva regole proprie e rappresentanti al comune di provenienza. Questo sistema è un po' arrivato fino a noi, anche se è un pochino più complicato. Infatti in Italia ci sono due tipi di professioni. Quelle regolamentate, o protette, o riconosciute, e quelle associative. Indovinate il medico dove si colloca? Esatto, in quelle regolamentate. E che vuol dire? Vuol dire che per poter esercitare, ovvero per poter fare il medico, bisogna per forza iscriversi a un albo professionale, ovvero un ordine. Tipo d'ordine della felice, ma con meno auro. Quindi, non appena ci si laurea e ci si abilita, cosa che adesso succede contemporaneamente, la prima cosa da fare è iscriversi all'albo dei medici chirurghi, degli odontogliadri, ovvero l'OMCEO. Però di OMCEO non ce n'è uno solo, ce n'è uno per provincia. Quindi bisogna iscriversi a uno degli albi provinciali. E qua si può scegliere tra l'albo della provincia di residenza, l'albo della provincia di domicilio, oppure l'albo della provincia dove si esercita la professione abitualmente. E come ci si scrive? Beh, di solito la procedura è totalmente online, e cambia leggermente da un ordine all'altro, però insomma ci sono alcuni step che sono uguali per tutti. Di solito bisogna presentare una domanda di iscrizione, provvista di bollo da 16€, fotocopia della tessera sanitaria della carta di identità, qualche fototessera, e la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione. Una volta forniti tutti questi documenti, però l'iscrizione non è automatica, perché il consiglio dell'ordine si riunisce una volta ogni tot, e convalida queste richieste di iscrizione. Quindi da quando fate la richiesta, a quando effettivamente entrate nell'ordine dei medici, può volerci un po' di tempo. Dopodiché una volta iscritti, vi assegnano un numero di iscrizione, e quel numero voi dovete metterlo nel timbro. Se il nome non lo ricordate, potete andare sul sito dell'ordine di appartenenza, cercare il nome e cognome, e vi esce fuori il vostro numero di iscrizione all'ordine. Poi che succede? Che l'ordine dei medici comunica tutti questi vostri dati, a chi ha l'EMPAM, che poi vi darà un altro tipo di codice, che è il vostro codice di previdenza. Dopodiché l'ordine dei medici vi darà anche un tesserino, tipo la licenza di uccidere di 007, nel quale c'è il vostro codice di iscrizione, che insomma vi identifica come medici. Insomma, quello da esibire quando qualcuno al ristorante chiede se c'è un medico in sala. Dopodiché poi, una volta iscritti all'ordine dei medici, informatevi perché spesso ci sono delle convenzioni con cose sparse in giro, e potete chiedere alcuni item, alcuni oggetti, tra cui anche per esempio il talloncino da esibire in macchina, con scritto medico in visita, che vi può essere utile se vi capita qualche visita domiciliare urgente. Dicevamo che l'ordine trasmette i vostri dati all'EMPA. Ma che è? Che cosa vuole da noi? Che cosa vuole? I nostri soldi. Che comunque in teoria vi dovrebbe ritare indietro una volta che siete troppo vecchi per lavorare, poco alla volta, possibilmente prima del prossimo inverno nucleare. La cicla ENPAM sta per Ente Nazionale di Providenza e Assistenza per Medici e Odontogliatri. E se invece non volessi andare in pensione, anzi volessi prendere il mio stipendio e metterlo in un materasso o in un deposito all'Azio Caperone, posso farlo? Mi dispiace ma non si può, perché l'iscrizione all'EMPAM è obbligatoria. Qui non si scappa. Addirittura è possibile iscriversi durante il quinto o sesto anno di medicina pagando di meno per poter maturare prima anni di anzianità, ovvero per andare in pensione prima. Però quanto tocca pagare? Qua la questione varia a seconda di quanto fatturate e di quanto siete vecchi. Infatti c'è una quota uguale per tutti che si chiama quota A, che varia in base alla vostra età anagrafica. E l'altra, la quota B, che va pagata solo se l'anno precedente avete percepito alcune tipologie di reddito, fra cui quello proveniente dall'attività libero professionale. Per esempio bisogna dichiarare la borsa MMG o i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto. E come fa l'EMPAM a sapere quanto avete fatturato? E lo dovete dire voi compilando il modulo D. Quindi andando sul sito dell'EMPAM, là c'è una sezione apposita e mettendo là quanto avete fatturato nell'anno precedente. Quindi dicevamo che la quota A varia a seconda dell'età. E ci sono vari scaglioni che in realtà cambiano di tanto in tanto. Ve li lascio qui in sovrimpressione quelli aggiornati adesso, quindi a giugno 2024. Però insomma andate sul sito dell'EMPAM per vedere se questi scaglioni sono rimasti uguali o se presumibilmente sono aumentati. La quota B invece ammonta del 19,5% del reddito imponibile, ma può essere ridotta al 9,75% per medici iscritti al fondo della medicina accreditata e convenzionata a EMPAM come medici dell'assistenza primaria specializzanti o specialisti ambulatoriali. O addirittura del 2% per chi ha un reddito intramenia o per i corsisti di medicina generale che come sappiamo non se la passano bene. Però l'EMPAM non vuol dire solo distanguamenti economici perché con l'EMPAM ci sono altre convenzioni aggiuntive e aiuti economici ai medici bisognosi. Per esempio sussidi per calamità naturali, invalidità, casa di riposo o assistenza domiciliare borse di studio per orfani o indennità di maternità e indennità di paternità che sono molto utili soprattutto in specializzazione dove queste indennità non ci sono. E ora finalmente andiamo a parlare di burocrazia spinta ma che ci serve per iniziare a lavorare come molti di voi già sapranno. Perché per chi non lo sapesse appena usciti dall'università per poter accettare dei soldi dai pazienti o dalle cliniche dobbiamo prima essere in regola con il fisco e per poter essere in regola con il fisco bisogna fare una procedura particolare che si chiama apertura della partita IVA che in pratica è un'altra sequenza di numeri che vi identifica agli occhi del fisco che dovete mettere in fattura e che vi consentirà di pagare le tasse. Perché sì, pagarle le tasse è un obbligo però non ne è per niente facile. Benvenuti in Italia. E come si apre? In teoria basta scaricare un modulo in particolare questo, il modulo AA9-12 che potrete trovare nel link in descrizione compilarlo e riconsegnarlo a mano in una delle sedi dell'Agenzia delle Entrate oppure inviarlo tramite la comandata o tramite il sito stesso dell'Agenzia delle Entrate. Facile no? Eh no. Perché ci sono due campi da compilare che non sono proprio immediati. Il regime fiscale e il codice ATECO. Il codice ATECO è un codice che identifica il tipo di attività. Insomma, il tipo di lavoro che fa, il mestiere. Esistono 17 categorie principali. Per esempio la A che tratta di agricoltura, la B di pesca, la H di UTVD, eccetera. Noi siamo la classe Q cioè Sanità e Assistenza Sociale e possiamo scegliere tra uno di questi codici 86.21.00 se esercitiamo come medici genetici ed è il codice da inserire se siamo medici neoabilitati 86.22.09 se fatturiamo da medici specialisti. Che cos'è invece il regime fiscale? È, anche qua, un insieme di regole da seguire un pacchetto di regole da seguire per essere in regola con il fisco. Noi possiamo scegliere tra due tipi di regimi anche se in realtà la maggior parte dei medici che comincia a lavorare aderisce a un regime particolare. Cioè il regime forfettario che è fatto apposta per i giovani professionisti squattrinati come noi. Comporta tasse non molto alte pochi sbatti e si versa il 5% di tasse sull'imponibile per i primi 5 anni dopodiché si passa al 15%. Sull'imponibile che vuol dire non il 5% di tasse su tutto quello che abbiamo fatturato ma su una certa percentuale. Questa certa percentuale su cui si pagano le tasse si chiama base imponibile. La base imponibile poi dipende dal coefficiente di redditività che varia a seconda del codice Ateco. Per esempio per il codice Ateco di medici il coefficiente di redditività è il 78%. Quindi i primi 5 anni paghiamo il 5% di tasse sul 78% del fatturato. Però a patto di fatturare meno di 85.000 euro altrimenti poi usciamo dal regime forfettario. In più non potete ridurre ulteriormente le tasse scaricando qualcosa cioè dichiarando i costi delle vostre attività perché la somma che scaricate decida a tavolino dal coefficiente di redditività. L'unica cosa che potete sottrarre sono i contributi previdenziali quindi quello che pagate all'EMPAM. Se volete approfondire potete dare uno sguardo a questo post. Tutto chiaro? No? Allora vi faccio un esempio. Gino si è laureato nel 2022 e in quell'anno ha fatto delle sostituzioni da un medico di base per un totale di 10.000 euro. Il suo codice Ateco è 86.21.00 e corrisponde a un coefficiente di redditività del 78% quindi la base imponibile è il 78% di 10.000 euro ovvero 7.800 euro. Quindi il grosso delle sue tasse sarà costituito dal 5% della base imponibile ovvero il 5% di 7.800 euro cioè 390 euro. Poi in realtà bisogna pagare anche altre cose come gli acconti sulle tasse dell'anno dopo però insomma era per farvi capire il meccanismo. Insomma non è facile stare dietro a tutti questi ragionamenti anche perché nessuno ce lo insegna a medicina. Poi c'è anche un altro tipo di regime che è il regime ordinario che ha limiti di fattorato più alti però è più complicato da gestire si pagano più tasse ma è possibile scaricare i costi che avete sostenuto per le vostre attività tipo il litman nuovo da 1000.000 euro. Insomma secondo me se non avete ereditato la clinica del papi secondo me è meglio il regime forfettario. Quindi riassumendo qua c'è un pochino da studiare però fortunatamente ci sono dei modi per semplificare un po' questo processo e qui entra in gioco FISCOMED che come avete visto è stato fondamentale per creare questo video anche perché fosse per me insomma starei ancora in alto mare ed è ormai uno sponsor storico del canale. Che cos'è? È un servizio in abbonamento tutto online con il quale avete un commercialista dedicato e un'area dedicata su un sito web con cui potete aprire la partita IVA da zero farvi aiutare con la dichiarazione dei redditi e la compilazione del modello unico e sbrigare in generale tutte le rogne burocratiche calcolare in tempo reale le tasse da pagare e farvi ricordare quando c'è un pagamento da effettuare e creare e gestire le fatture elettroniche e a quanto ne so io è l'unico servizio del genere che è fatto apposta per i medici soprattutto per i giovani medici se volete passare da loro vi ricordo che è sempre attivo il codice sconto H3Med27 con il quale avete niente ragazzi per adesso è tutto io ogni volta mi stanco tantissimo a parlare di queste cose non so come facciano i commercialisti a vivere e se nonostante questo spiegone avete altre domande non fatele a me o fatele ai ragazzi di Piscope trovate i loro recapiti qua sotto in descrizione niente da Federico è tutto sono stremato per aver parlato di queste cose e niente vado a farvi una pera di value ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao